Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze rallentamenti per incidente segnalato tra Lucca Est e Capannori. Fare attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico della A1 e sulla A11 tra Prato Est e Pisa Nord. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Fino a metà febbraio 2024 la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del video per Coltano per i lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!